Disco verde del Consiglio Comunale di Arezzo al Piano Economico Finanziario di Investimento di Atam per il triennio 2017-2019. Tra gli investimenti più importanti quelli sul fronte della sicurezza, come l'adeguamento degli impianti di videosorveglianza dei parcheggi grazie all'adozione di una piattaforma compatibile con quella già in dotazione al Comune. L'obiettivo è quello di creare un sistema di controllo unificato, lo sviluppo di servizi integrati di infomobilità su smartphone e tablet, la gestione automatica tramite app del controllo della sosta da parte degli ausiliari del traffico. Alcuni investimenti sono previsti anche per l'utilizzo di un software specifico con telecamere per la lettura delle targhe finalizzato a segnalare il transito di veicoli privi di copertura assicurativa con revisione scaduta o, peggio ancora, rubate. 118 mila gli euro che saranno invece investiti nel programma triennale di manutenzione ordinaria del manto di asfalto delle aree di sosta affidate alla gestione Atam. Infine, 60 mila euro saranno impiegati per incrementare il bike sharing e portare da 8 a 10 le stazioni di distribuzione delle biciclette.